Nel giorno che incorone il tuo amore, Bertoldo Abbigliamento è lì, accanto a te. Bertoldo Abbigliamento ti aspetta all'interno di uno spazio espositivo di 2000 metri quadri, per vestire lo sposo e tutta la tua famiglia, con infinite proposte di capi cerimonia e non solo, anche per taglie forti. Ci trovi a Legnaro, in via Romea 21, sulla statale che collega Padova a Chioggia.